Lettura, Vangelo e Commento Dal libro del profeta Geremia Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno ad ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati sarete stati fecondi nel paese. In quei giorni oracolo del Signore non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno ne ricorderà. Non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme, trono del Signore, e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore ogni volta che uno ascolta la parabola del regno e non la comprende. Viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia. Ma non ha in sé radici ed è incostante sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno. Parola del Signore Lode a te, o Cristo Commento al Vangelo Ciao a tutti e ben ritrovati questo venerdì su Via della Fede Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che si amano Anna e anche Gioacchino perché è proprio la ricorrenza dei genitori di Maria Santissima questi due grandi santi Gioacchino ed Anna che hanno saputo insegnare hanno saputo guardare con il cuore a Dio Padre Onnipotente poiché non potevano avere dei figli ma il loro amore era davvero molto forte da loro Gesù e Dio stesso quindi scelgono di prenderla non solo come figlia come sposa e anche come madre dunque chiediamo a questi due grandi santi oggi un discernimento particolare per questo Vangelo un discernimento da genitori come se noi fossimo i figli e loro ci stanno per spiegare come noi dobbiamo comportarci dunque cominciamo con il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vieni Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce concedici o Paraclito la tua intelligenza perché mediante questa noi possiamo conoscere approfondire queste parole del Vangelo che ci avvicinano sempre di più al Padre nostro che è nei cieli Padre venga il tuo regno sia fatta la tua volontà Signore concedici anche oggi il tuo amore qui giù in questa valle di lacrime perché ognuno di noi davvero ne ha tanto bisogno dunque in quel giorno Gesù disse ai suoi discepoli voi dunque ascoltate la parabola del seminatore il Signore comincia sempre così non a caso il comandamento comincia con proprio il primo dei comandamenti comincia con ascolta Israele ecco che l'ascolto diventa fondamentale nel cercare di comprendere questa verità di Dio quando anche parla per mezzi misteriosi come questi delle parabole dunque mettiamoci anche noi in questa condizione di ascolto per cercare di comprendere la profondità di queste parole quindi facciamo questa piccola distinzione fra il sentire e ascoltare il sentire poi entra da un orecchio e esce dall'altro l'ascolto ci fa entrare in una sintonia dobbiamo cercare di capire per dare poi anche il nostro contributo anche quando nella nostra vita quotidiana viviamo le nostre relazioni con i figli sul lavoro dobbiamo essere in grado di ascoltare per poter dare un contributo d'amore a coloro che ci circondano dice ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende viene il maligno e rubà ciò che è stato seminato nel suo cuore questo è il seme seminato lungo la strada dunque il terreno come dicevamo è proprio il nostro cuore e la cosa interessante è che a noi viene rivolta spesso la parola del Signore oppure se noi leggiamo vi faccio un esempio ero l'altra sera con un mio amico una persona che ha anche più di 80 anni e quindi mi diceva ma io leggo la Bibbia la sera ma ci sono tante cose che non comprendo ci sono tante cose che non comprendo ecco questa cosa mi fa sorridere perché quante volte anch'io ho letto questa Bibbia poi è arrivato il maligno su cose che io non comprendevo e se le è portate via dunque l'aspetto fondamentale davvero importante quando noi cerchiamo di leggere è di prendere questo concetto ascoltarlo ma poi se non lo comprendiamo di approfondire come quando succede che esistono delle cose importanti in famiglia per esempio senti qualcosa dalle parole di tuo figlio o di tua figlia che un po' stonano o anche con la scuola sai papà fuori dalla scuola c'erano queste persone che avvicinavano i bambini oppure che mi hanno avvicinato mi hanno detto questo e questo se io sento soltanto da qui entra da qui esce non riesco a focalizzare ma se sto ascoltando ne comprendo l'importanza la gravità il modo di comportarsi che ne deriverà poi perché magari quello che è successo era davvero degno di attenzione e bisognava agire in un certo modo dunque il Signore ci sta dicendo che noi abbiamo un nemico che è il maligno che porta via questa parola che fruttificherebbe ugualmente in noi anche in una condizione diciamo più lieve di ascolto anche in una condizione meno di concentrazione ma abbiamo da combattere contro qualcuno che è proprio il maligno dunque questo combattimento è una scelta di volontà nel momento in cui non comprendiamo dobbiamo necessariamente approfondire perché altrimenti questa grazia di Dio che viene dal regno e che è la parola di Dio viene portata via dal nostro cuore cosa vuol dire questo quando questa parola viene portata via dal nostro cuore è come se il terreno buono fosse portato via da un campo come se in questo campo rimanessero solo dei sassi dunque che succede quando andiamo a seminare in questo cuore in questo terreno dice il Signore quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola la accoglie subito con gioia ma non ha in sé radici ed è incostante sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa di questa parola egli subito viene meno dunque questo terreno sassoso che è proprio questo nostro cuore che sono queste persone che accolgono questa parola con gioia ma questa gioia è più un sensazionalismo molto spesso ho visto persone avvicinarsi magari a dei miracoli anche di grandissimo valore o di grandissima entità e affrontarla e vedere le cose in maniera totalmente gioiosa ma dopo un po' dire no no io devo però rimanere con i piedi per terra no no io questa cosa sì ma ecco questa incostanza di cui parla il Signore questo questa questo giungere di queste tribolazioni perché perché il Signore fa sì che giunga la tribolazione poteva dire va bene ma facciamo che me l'hai detto ero gioioso va tutto bene e non c'è bisogno di nient'altro no la questione non è per Dio la questione non è di Dio ma è proprio nostra è per noi è nostra cosa voglio dire con questo noi magari tante volte basta poco per avere una gioia no ma molto più difficoltà con molta più difficoltà invece noi riusciamo a perseverare nel fare le cose faccio un esempio se io sto male perché non respiro bene e fumo devo smettere di fumare è una prescrizione che mi dà il medico di famiglia e anche lo specialista ma nel momento in cui io sono incostante beh in quella tribolazione io vengo meno cioè in questo star male vengo meno a chi a me stesso prima a me stesso perché in questa tribolazione in questa prova io scopro chi sono il Signore non dà mai delle croci più grandi di quelle che noi possiamo portare ma in questa croce nel portare ogni giorno la nostra croce anche con grande difficoltà il Signore vuole una sola cosa vuole che noi diciamo questo nostro sì che viene dal cuore da un cuore generoso non da un cuore pieno di sassi dove qualcuno ha portato via il terreno buono rimane solo lo scarto no il Signore vuole che noi ci mettiamo la nostra buona volontà ed è facile questo? no costa tantissimo costa rinunciare a noi stessi per andare incontro al Signore ma le conseguenze qui sono chiare ci dice che guarda figlio mio che quando arriva a una tribolazione beh tu sarai ancora più preoccupato sarai ancora più affranto perché vieni meno non sei costante perché nel tuo cuore non c'è abbastanza terreno buono l'hanno portato via i diavoli l'hanno portato via gli altri e se non c'hai terreno buono dove metterai le radici per affrontare questa giornata per affrontare questo problema per risolvere il problema dei tuoi figli di un tuo amato di una tua amata di un tuo caro risulterai tu quello in difficoltà che gli altri dovranno aiutare se troverai un'anima buona ma quel problema rimarrà tuo e quelle preoccupazioni e quel modo di viverlo quel andare in depressione quello stare male sarà tuo e non te lo leva nessuno perché hai scelto tu di essere così non hai dato un segnale di buona volontà perché Dio mai viene meno quando uno con un po' di buona volontà cerca di fare la cosa giusta dunque quello seminato invece tra i rovi è colui che ascolta la parola già l'ascolto significa che stiamo macinando qualcosa dentro di noi ma le preoccupazioni del mondo la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto cosa vuol dire questo vuol dire che tu l'ascolti quando l'ascolti dentro di te la comprendi ti dà anche quella gioia ti dà quel senso e dà quella parola dà il valore a quella cosa cioè la parola di Dio non è soltanto qualcosa che noi ascoltiamo e rimane così come fumo nell'aria no è qualcosa che entra dentro ci fa comprendere bene il valore delle cose le priorità che noi diamo a queste cose ma certo che il diavolo però non dorme dentro di noi le preoccupazioni sono tante allora beh però c'era da fare quella vacanza che era qualcosa di molto bello c'era da comprare questa macchina che era qualcosa di molto bello beh se io fossi però se io avessi più soldi mi troverei meglio perché questo mi soddisfa mi compro questo che mi rende contento non è così signori il signore è davvero molto chiaro fratelli miei e sorelle mie il signore dice che la ricchezza soffoca questa parola ed essa non dà frutto significa che ci riduciamo noi ad essere un un albero senza frutti è una 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 spiga di grano senza semini cioè senza grano che ci si fa con questo grano che non ha semi beh si taglia si getta via poi qualcuno lo raccoglierà e lo brucerà dunque bisogna essere molto molto attenti perché le parole del signore sono sempre molto chiare e ci sono sempre riferimenti non solo al paradiso ma anche all'inferno quindi guardatevi bene dall'ascoltare coloro che dicono no l'inferno non c'è Dio è buono e manda tutti in paradiso il signore dà sempre una misura ad ogni cosa ma quello che vive nel cuore del signore e dovrebbe vivere nei nostri cuori è proprio la speranza e questo passo del vangelo termina con questa speranza perché dice quello che è seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola la comprende e questa la mette a frutto cioè questi dà frutto cosa significa che l'essere cristiano è un ascolto una comprensione e un operare ecco guardatevi anche da tutte quelle pseudo religioni che dicono che il signore ci ha salvato perché è buono noi non dobbiamo fare niente basta credere che Gesù Cristo è Dio che Gesù Cristo è il signore il credere che noi viviamo nei nostri cuori sarà giudicato da Dio ma ciò che noi vediamo degli altri e ciò che noi sappiamo e vediamo di noi stessi è l'opera che noi facciamo ecco dunque che in quella tribolazione che dicevamo prima noi scopriamo chi siamo perché in quella reazione noi operiamo e scopriamo di essere magari oppure diciamo così credevamo di essere migliori oppure pensavamo di essere peggiori ma è quella situazione che fa vedere ai nostri occhi e noi agli occhi del mondo chi siamo perché molto spesso succede come un po' con Pietro no signore io per te morirei ma lo dici con un cuore sincero non è che c'è menzogna in quello che dici ma non sai valutare le tue capacità dunque ti trovi in una condizione che ti fa capire chi sei ti fa vedere dove potrai arrivare dunque questo frutto sarà prodotto il 100 per 1 il 60 e il 30 voglio dire che cos'è che fa sì che questo cuore possa fruttificare beh sono tantissimi elementi ma li possiamo riassumere così più noi siamo stretti a Dio e viviamo il mondo con meno fronzoli con meno diciamo così sovrastrutture più viviamo in Dio e cerchiamo la volontà di Dio maggiore è il frutto quando noi viviamo completamente in quella volontà beh il frutto sarà 100 dunque che la benedizione del Signore oggi discenda su di voi sui vostri cari sulle vostre famiglie e che questo vostro cuore possa fruttificare il 100 per 1 per voi come per me se queste parole vi sono state di qualche aiuto vi chiedo di ricordarvi di me e della mia famiglia nelle vostre preghiere poi di mettere un pollicione in su anche se so che qualcuno lo mette prima di aver ascoltato il Vangelo e io davvero ringrazio tantissimo e se potete condividete il video grazie a tutti e noi ci vediamo presto ciao e a domani ciao